I graffiti e gli scarabocchi, c'è un'evidente differenza tra di loro. E qui alla lunetta Gamberini, dove ci sono i graffiti più belli della città, questa differenza si vede subito. Bisogna trovare una soluzione per pulire i muri della città. È possibile questo? Io penso di sì. Ci sono tre leve su cui fare carbine. La prima, punire chi imbratta i muri, applicando rigorosamente i regolamenti che ci sono. La seconda, insieme a Writer e ai ragazzi, trovare dei muri, degli spazi da abbellire con i graffiti, come è successo qui alla lunetta e alla zona San Donato. Terzo, bisogna incentivare i cittadini a turnare e pulire i propri muri, o direttamente o attivando contratti di manutenzione.